Ho arrivato anche Steve e niente ci si diverte così a prendere una barca con l'elicotterone con questa è la mia visuale di prima persona fantastica da vomito praticamente oh mio dio che cazzo stai facendo ma stai facendo apposta aspetta finchè non arriva Steve vediamo come la prende madonna sta venendo da vomitare